Un altro furto in abitazione ad Arezzo città. I proprietari, un imprenditore orafo e la moglie, erano rientrati dal lavoro all'ora di pranzo intorno alle 13.50 dall'abitazione, si erano allontanati intorno alle 9. Hanno trovato l'appartamento completamente a suo quadro. Abbiamo trovato tutto in disordine, ci racconta il proprietario, e i ladri hanno portato via sia oro che soldi. I malviventi sono riusciti ad introdursi nell'abitazione forzando una finestra. Poi hanno agito indisturbati, frugando in ogni angolo dell'abitazione. Alla fine sono riusciti a portare via circa 300 grammi di preziosi, tutti oggetti di uso personale sia dell'imprenditore che della moglie, e circa 2000 euro in contanti. Soldi, ci racconta sempre il proprietario, che teniamo in casa per ogni necessità. Il furto è stato denunciato dalla polizia che ha già effettuato un primo sopralluogo. Nelle prossime ore le vittime formalizzeranno la denuncia.